Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha pubblicato un post al vetriolo contro il padre della concorrente del GF Vip. Ecco cosa ha detto. L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, è tornato alla carica contro Stefano Fiordelisi, papà dell'attuale concorrente del grande fratello Vip. Il ragazzo, qualche ora fa, ha pubblicato sul suo account di Instagram una storia davvero velenosa contro il suo ex suocero. Nello specifico, il giovane ha preso spunto da un tweet pubblicato da Stefano qualche giorno fa contro alcune concorrenti del GF Vip. Quel post ha generato molto clamore sui social, ed è stato di ispirazione anche a Gianluca per sbottare contro l'uomo. Il ragazzo, infatti, ha dipinto il signor Fiordelisi come il peggior padre nella storia del grande fratello. Il duro attacco dell'ex di Antonella contro Stefano Fiordelisi. Gianluca Benincasa ha sbottato duramente contro il padre di Antonella Fiordelisi. L'ex fidanzato della giovane ha condiviso sul suo account di Instagram un commento alquanto velenoso che l'uomo scrisse contro alcune concorrenti del GF Vip. Nello specifico, si tratta del tweet in cui Stefano esortò il pubblico a mandare a casa, bufo triste, ovvero, Giaele De Donà. Il ragazzo ha preso come spunto questo commento davvero pungente per lanciare velenose stoccate ai genitori di Antonella Fiordelisi. In riferimento a suo padre, il giovane ha detto. Sei e sarai sempre ricordato come il peggior genitore al, confronto, nella storia del GF. Quando la smetterete tu e la tua consorte di insinuare cose alle mie spalle, io la smetterò di spalare me asterisco asterisco a su di te. GF Vip. Gianluca Benincasa vuole. Vendicarsi. Del padre di Antonella. L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, poi, ha anche aggiunto che Stefano sia da considerarsi l'elemento cardine che sta rendendo fallimentare il percorso di sua figlia all'interno della casa del GF Vip. Tra le varie dichiarazioni, poi, non sono mancate delle velate, minacce, riferite al fatto che la vendetta sia un piatto che va servito freddo. Con queste parole, dunque, Gianluca Benincasa ci ha tenuto, ancora una volta, a manifestare tutto il suo dissenso per le ingerenze a cui Stefano sta dando luogo durante il periodo di permanenza nella casa di Antonella. Ad ogni modo, almeno per il momento, il signor Fiordelisi non è ancora intervenuto sulla faccenda. L'uomo si sta limitando solamente a tessere le lodi di sua figlia che, in questo periodo, sta legando molto con Nikita Pelison ed Anna Saber, attualmente in nomination. Tutte e tre sono state molto bersagliate dai concorrenti. Pertanto, hanno scelto di dare luogo ad una specie di alleanza. Grazie.